Ha usato la forza di Yen contro lui stesso? Anche se sembra un bravo uomo, è pur sempre un assassino. Mi stai dicendo che Tan Lon si trova nel villaggio di cui mi hai parlato? Mi prego, ma... Non c'è niente che possa fermarli, niente. Don Yen, per il ciclo Action, in prima visione, Dragon, giovedì alle 21.20, Rai 4.